Vi siete mai fermati Ad osservare ciò che accade intorno a voi Mentre tutto scorre velocemente E se quel velocemente Fosse solo il pretesto Per vedere ciò che non accade Ci sono cose che attraggono la tua attenzione In un attimo preso per caso Non dar retta ai tuoi occhi E non credere a ciò che vedi Essi vedono soltanto ciò che è ilimitato Non dar retta ai tuoi occhi 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 Sarebbe del tutto incoerente e insensato Se a questo punto chiudessimo gli occhi E ascoltassimo il silenzio Il silenzio Il ritmo del silenzio Il 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 silenzio Grazie a tutti. 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 Quando cambi il modo di osservare le cose, le cose che osservi cambiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.